Virtus, anche se Yari ci ha messo una tripla, Edney nel traffico, scambia con Marco Nato, recupera il controllo della situazione, gioca il solito pick and roll, stavolta Grifit rimane dietro e viene punito contro Edney, Edney però vince questa battaglia contro il gigante Rashard Grifit, attacca Tayus Edney e poi inventa un incredibile canesso. Qui il time out in campo chiesto da Ettore Messina. Edney in pick and roll con Nicola, c'è anche Frosini sul campo, ecco creata la coppia, Frosini e Andersen, intanto Edney continua a scordarsi di essere uno, esser più vicino, riesce a deviare il pallone, ne perfeziona il recupero, Bocchi Nakbar, Edney a tutta velocità, arriva Nakbar. Inviare questo status mentale, recupera il palleggio Edney, scambia con Garbahosa, ultimi 10 secondi dell'azione, il mismatch contro Smolish, lo attacca, sbaglia, deviazione a rimbalzo, doppia per Marco Nato che poi controlla, riapre per Edney, ha molto tempo e spazio, manda a bersaglio il triplone. Becirvec non inteso con lui, come tu hai detto Flavio, regalo per la Benetton, vediamo se approfittano. Edney dal palleggio, non sa se andare sul blocco o meno, alla fine prende arresto, tiro, segna, attenzione Sassico in queste situazioni, siete al cinema ed è effettivamente una squadra da cinema, quella dietro Messina, 90 punti segnati con tutta questa pressione addosso, Edney da centrocampo.